Interessante incontro questa mattina a Ponte Cagnano per parlare di burlismo. All'iniziativa ha preso parte il sindaco Ernesto Siga, l'assessore alla pubblica istituzione Maria Rosalba De Vivo e una rappresentante per la dirigente dell'Istituto Comprensivo Ponte Cagnano Sant'Antonio Angelina Malangone insieme ad una delegazione di docenti e alunni e per l'associazione Voce Alta l'animatrice Martina Palumbo e l'assistente sociale Rosanna Maschione. In prima fila stamani con l'Istituto Comprensivo Sant'Antonio Ponte Cagnano. Il bullismo, cyberbullismo come lo vogliamo chiamare, è comunque una forma di violenza che nell'ultimo periodo sta crescendo in forma esponenziale e che colpisce soprattutto i ragazzi in età adolescenziale e quindi le quinte della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. L'istituzione deve essere vicino alle scuole, deve essere vicino alla famiglia. I ragazzi devono essere eseguiti con questi progetti di ascolto. I ragazzi vanno ascoltati perché di solito chi è protagonista di atti di bullismo è un ragazzo privo di carenza emotiva e che ha dei disagi alle spalle, disagi familiari e quindi dobbiamo aprire centri di ascolto. Questo progetto ha portato come risultato che su 150 studenti, il 30% che poi è una media nazionale, non è la media solo del comune di Ponte Cagnano-Faiano, ha mostrato delle difficoltà e degli atti di bullismo. Su 50 ragazzi però solo 6 sono stati seguiti e verranno seguiti appunto da un centro di ascolto. Sì, scende in campo consapevole delle difficoltà che le comunità familiari vivono. In questa grande difficoltà sociale noi stiamo avviando un percorso a 360 gradi per stare vicino alle difficoltà o alle nuove emergenze che vedono le future generazioni coinvolte purtroppo in malo modo. È straordinario il fatto della collaborazione tra l'associazionismo, l'istituzione scuola, il comune e quindi questo è un elemento importante perché insieme si affrontano le grandi tematiche che stiamo vivendo e che semmai troppo silenziosamente continuano a esistere nei nuclei familiari, nelle scuole e dobbiamo far crescere sane generazioni e siamo impegnati a 360 gradi a fare un buon lavoro.